Non lo so cosa dire Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Sono Samu E visto che un vecchio video che vi ho fatto vedere Ovvero il verso dell'ornitorinco Che ho visto che voi siete delle persone sensibili E ridete molto Ho deciso di farvi una serie di versi senza senso Ragazzi E quindi la seconda parte Questo è il verso dell'ornitorinco australiano Un po' diverso Non è così uguale a quello dell'ornitorinco Questo è australiano È dell'ornitorinco australiano Anche se non so che in Australia Anche se non so se in Australia vivono ornitorinchi Vabbè Pronti? 3, 2, 1 Ok Questo era un altro verso senza senso Se vi è piaciuto Lasciate un bel like Scrivete qua sotto se volete la serie dei versi senza senso E soprattutto iscrivetevi al canale Quindi spero che questo video vi sia piaciuto Lasciate anche iscrivetevi al canale Ciao ragazzi Ciao ragazzi